Musica Io sono Fabrizio Tritapepè, sono un genitore di un ragazzo che gioca nell'Under 10 sul Monaregby e siamo oggi, qui c'è un concentramento Sulmona-Frentana, categoria Under 10 Adesso abbiamo un giovane reggbista di Sulmona Vincenzo Mariani Vincenzo quanti anni hai? 8 Ti piace giocare al rugby? Tantissimo Perché? Stare insieme ai compagni? Sì Fare meta? Sì, molto Questo è il futuro del Sulmona Rugby, tutti i ragazzi Under 10 che sono le nostre speranze Adesso ci dicono i nomi? Manuel Fratelli Jacopo Vincenzo Francesco Rocco Mattia Giulio Ribraccio Valerio Queste sono le nostre speranze, oggi veramente stanno perdendo, però l'importante che cos'è? Giocare 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 E dopo? Partecipare Vincere Fare meglio E fare meglio Un in bocca al lupo a questi ragazzi e alla prossima volta vediamo di fare meglio Giocare 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 Grazie.